Musica 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 Vedi quanto godimento Paci? Buon intervista Che festa è oggi? La festa è il Verdicchio Sei contento? No, ma tutti i giorni festa qua su Non bisogna aspettare il 21 luglio Il 21 luglio E tutti i giorni festa Il merlozzo Il merlozzo Cosa 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 A chi somiglia Francesco? A Catalessia! Ciao! Ciao! Ciao, zio Francesco! Ciao, zio Francesco! Questo lo stiamo aspettando noi, questo lo stiamo aspettando noi! Che storia! Ma questo c'è il Severino comunque! Questo tantissimo! Grazie a tutti. 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 Ecco, abbiamo solamente il microfono, niente amplificazione, poi se non funziona è un disastro. Allora, non potevamo iniziare che con l'inno nazionale, visto che suoniamo di fronte al monumento ai caduti. Adesso cominciamo però con altri brani che si adattano alla nostra formazione, che è una formazione che si chiama Reciclato. Voi vedrete, nessuno di questi signori è un professionista. Suona per diletto, si diverte. Grazie a tutti. 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 Un saluto alla festa. Grazie a tutti. 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 , 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 a tutti.